Buongiorno a tutti ed eccomi ritornata per parlare di uomini e donne. Ieri 7 novembre si è registrata una nuova puntata e colpo di scena che tutti ci aspettavamo è il ritorno di Valentina a Uthiero in studio, ma vediamo un attimino che cosa è successo. Grazie alle anticipazioni del vicolo delle news possiamo anticiparvi che la puntata inizia ovviamente con Gemma Galgani che parla nuovamente di Maurizio lamentandosi però degli attacchi di Tina Cipollari. Poi si passa ad Armando che è uscito con Brunilde, lui si lamenta proprio della donna, infatti dice che ha degli attacchi un po' bruschi e dei cambi di umore repentini, non è sicuro se vuole continuare la storia con lei però ammette che lei prova dei sentimenti molto importanti verso Armando. Titubante quindi Armando della sua conoscenza con Brunilde scende una ragazza per lui, è Gianluca di nome Marianna e entrambi decidono di farla rimanere. E arriviamo al momento tanto atteso, ritornano in studio Valentina e Germano. Dopo l'intervista che hanno fatto a Uomini e Donne Magazine raccontano che tra di loro dopo essere usciti dallo studio di Uomini e Donne non è mai iniziata, visto che si sono visti solo una volta dalla loro uscita dal programma e mai più. Infatti Valentina ammette che non hanno fatto, che hanno solo e solamente litigato al telefono. Entrambi però vogliono rimanere nel studio di Maria De Filippi ma Gianni Sverti ovviamente reagisce male e chiede l'uscita di Germano. Lui quindi va via e abbandona il programma mentre però Valentina resta seduta lì ma interviene immediatamente Maria De Filippi che sotto consiglio gli chiede di lasciare il programma per una settimana e pensarci un po' su. Voi che cosa ne pensate invece? Valentina è attaccata al programma e quindi non riuscirebbe a schiodarsi come in tanti in questi giorni hanno detto oppure è un modo per cercare un uomo? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice su di supporto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video.